Adesso la parola a Giorgio Vitali, che è un esperto tra l'altro anche di monete. Certo che tu ti dilunghi molto nelle tue presenta scuole. Non posso dire tutte cose che tu sai. Ma no, ma per Dio, 5 minuti. Allora, dobbiamo partire su alcune considerazioni e oltretutto una presa dato fotografica della realtà italiana di oggi. Per poi discutere, non certo di monete complementari, ma di qualcos'altro. Di una impostazione politica impostata a fondo sul diritto romano. Al quale noi dobbiamo assolutamente ritornare, se vogliamo ritornare, alla libertà vera, autentica, vista proprio nell'ottica della romanità, che è una libertà sancita dal diritto. Qual è stata la caratteristica fondamentale della grande cultura latina? È stata quella di aver creato un diritto capace di coincidere col concetto di civiltà e col concetto di libertà. Nella vita sociale l'uomo è libero nel momento in cui può adire ad un diritto che ne garantisce la sostanziale intrinseca libertà. Se non partiamo da questi concetti, qualsiasi soluzione pensata, zigocolata, immaginata, prospettata, di liberazione o pseudo-liberazione dal potere usuraio è pura illusione. Allora, siccome il discorso è questo, faremo alcune piccole deviazioni, perché ci interessa anche richiamare l'attenzione sulla realtà nella quale noi oggi siamo immersi. Allora, partiamo dalla realtà sociale di oggi. Oggi la televisione italiana è stata per intero totalizzata dal Festival di Sanremo. Probabilmente pochi se ne sono accorti, ma tutti i programmi capaci di raccogliere adesioni e soprattutto audience sono stati bloccati. C'è un accordo tra tutte le divisioni per il potenziamento della forma magica per eccellenza di controllo sociale. La canzone. Facciamoci una canzone. Allora, io vi posso anche predire qualcosa, perché la previsione da questo punto di vista non è sbagliata, può avvenire. Cioè l'apparizione di Matteo Renzi alla finale di... Perché non è un caso, appunto, da una scala... È un menestrello, quindi è l'ora giù. Esattamente. È un menestrello, tanta storia. È come una scala della grande Wanda Osiris, oppure dall'altalena dalla quale scendeva l'Orfei. L'Orfei, capito? Arriva Matteo Renzi e si presenta... La logica è questa. Ma la finale di... Ebbene, la finale di... Ma non avevo capito. Hanno oscurato tutti gli altri programmi e quindi è prevedibile una conclusione alla grande con il grande mistificatore. Allora... Bravo. Ma pensa se è stato davvero. Il grande mistificatore. Mi sa convincendo voi. No, no, sarebbe... Allora, oggi hanno potenziato questa cosa esultando per il boom di audience che ha avuto... Guardate ragazzi, è importante... Ha avuto Sanremo. E te credo. Hanno oscurato tutto il resto e la gente non può che andarci a sentire quelle canzoni che più cretine non ci possono essere. E quelle facce da puttane che stanno lì a recitare queste canzoni. Allora, l'altro giorno... L'altro giorno, facce da puttane, sono facce da puttane, truccate da puttane. Non lo so, non lo so, non lo so. Sono puttane, truccate da puttane. Faccia, interessa. Allora, mi citassero, no? Io... Che vi? Allora, l'altro giorno hanno fatto vedere una cosa molto simpatica. striscia la notizia, l'ho fatto vedere una delle tante trasmissioni che avvengono in tutto il mondo sulla categoria di quella di Maria De Filippi, no? Che ci sono questi... Disperati. Uomini e donne. Questi cantanti, giocolieri, eccetera. Tronistici già. Che si esibiscono per avere un punteggio. E la cosa più bella è quella che è apparsa a Parigi, dove c'era un guitto, un ballerino, che è venuto sul parco scenico, si è derudato, si è infilato al culo un razzo, gli ha dato fuoco, gli andava, sì, gli andava balloncellando di qua e là con il coro, con il razzo del culo. Si, si, l'hanno ripetuto più di una volta. Si, si. No, veramente. Verissimo. Ma tu non c'è niente da fare. Allora, allora, io mi auguro che Matteo Renzi copi quello, perché quello ha avuto un grande successo, se vedevo, mi dico a Paudigaro, capito? Questa correnza al culo. Allora, io mi auguro che Matteo Renzi copi questa performance, che è eccezionale. Allora, invece di avere, come dice Maurizio, il 30% dei voti, avrebbe il 90% dei voti, simbolo dell'Italia di oggi, il razzo al culo. Bello che così. E allora, detto questa premessa, per rompere un po' il ghiaccio, diciamo alcune cose importanti. in relazione a che cosa noi dobbiamo puntare e come, ad esempio, quando noi parliamo di moneta complementare, di cambiare sociale, eccetera, noi stiamo puntando a qualcosa di alternativo al dominio dell'usura, che si estende fortunatamente non in tutto il mondo. Va bene? perché ci sono delle nazioni che hanno incominciato a capire, che devono reagire. Allora, prima cosa da far vedere, per far vedere qual è il potere intrinseco che ha oggi il potere finanziario sul mondo, facciamo vedere questo libro. Allora, questo libro che è stato pubblicato nel 1999, dedicato, lettera aperta, ai guru dell'economia che ci prendono per imbecilli, scritto da un noto economista che si chiamava Bernard Marie, perché Bernard Marie è stato la vittima, è stato il Daniele, il principale di tutta la messa in scena di Gesù di Charlie. Esattamente, è stato il vero obiettivo di quella messa in scena, ve lo faccio rivedere, è stato pubblicato in Italia nel 2000. Questo per dire cosa significa oggi nel mondo avere a che fare con certa gente, però siccome quella gente lì pensa che nessuno l'abbia capito, almeno qui c'è qualcuno, io ho appena uscito e me lo sono comprato, esattamente la quindicina di anni fa. Si trova adesso? Penso di sì. Edizione Ponte alle Grazie. Ponte alle Grazie? Sì, edizione Ponte alle Grazie. Leggiamo un piccolo periodo che è veramente interessante, perché lui va a fondo nella questione. Dice, Maurice Allè non si è mai lasciato in finocchiare. Gli ultimi 45 anni sono stati dominati da una bella serie di teorie dogmatiche, sempre sostenute con la stessa sicomera, ma in piena contraddizione l'una con l'altra. L'una più irreale dell'altra e tutte abbandonate l'una dopo l'altra sotto la spinta dei fatti. Allo studio della storia, all'analisi approfondiva degli errori... Allora parla degli errori passati, non si è fatto altro che sostituire semplici affermazioni troppo spesso basate su puri sofismi, su modelli matematici non realistici e su analisi superficiali delle circostanze. Questo è Maurice Allè, non è il primo venuto. Cioè, che cosa dice Maurice Allè? Dice che è tutta una mistificazione. Il fatto che il potere usuraio oggi ci impone delle scelte, dice che ci impone delle scelte, basate sul pensiero di notti e comunisti, economisti, Maurice Allè dice guarda che sono tutte fesserie, nessuno di questi ha scritto qualcosa di concreto e di vero. Questa frase è molto importante perché oltretutto, come dicevo, è di Maurice Allè, non soltanto un'altra frase interessante è questa. I teorici dell'equilibrio, e qui entriamo nel merito di un altro discorso di fondo che implica comunque anche l'emissione di una circolazione monetaria alternativa, parlo comunque sempre di carta moneta, di banco nota, i teorici dell'equilibrio non sapevano di essere vinti, pensavano che Keynes potesse essere assorbito dal loro sistema di equilibrio. erano già vinti nel 1937, ecco i riferimenti, quando Keynes parlava delle forze oscure, dell'incertezza e dell'ignoranza che operano sui mercati. Nel 1979 X ha infine abbandonato la nozione di legge universale in economia ed è morto col sorriso sulle labbra. Quindi noi abbiamo anche dei pensatori che hanno capito qual è il sistema, hanno capito quali sono le modalità, ma soprattutto hanno capito la falsità intrinseca di questi strani economisti che in realtà scrivono a comando. Ma altri avevano già dedicato prima di lui. Pareto, scoraggiato per molte ragioni, bruciando Wallace dopo averlo venerato e riconoscendo che l'economia era soltanto un vano tentativo di parlare di psicologia. È verissimo. La fiducia, la trasparenza, il temperamento sanguigno degli imprenditori e Marshall dicendo a Keynes poco prima di morire, se dovessi tornare a vivere mi dedicherei alla psicologia. Quindi che cosa più di più profondo dell'analisi del comportamento di questa gente, che sono anche degli studiosi seri, quando alla fine riconoscono che non esiste una teoria economica valida, che qualsiasi appiglio nei confronti della cosiddetta economia, teoria economica è falso, perché quelle che operano... Parte da presupposti falsi. Da forze di potere, oscure o paesi, che però incidono prevalentemente sulla psicologia delle persone. E che significa? Che se noi mettiamo, riusciamo ad agire in profondità nella psicologia delle persone, di questo popolo bue, che questa sera vedranno le canzoni idioti, che i più idioti non ci sono, cantate in attesa dell'avvento salvifico di Matteo Enzi, a quelle persone lì, se noi riusciamo a rompere questo circolo vizioso che li gira tra le loro teste, tra una canzonetta e l'altra, e riusciamo a far capire che è possibile uscire dalla crisi, no? Ebbene, noi abbiamo fatto molto facile. Ma è proprio perché è facile che loro non lo capiscono, perché gli hanno messo in testa che nella vita è tutto difficile e bisogna affidarsi a questi bravi economisti che capiscono tutto e sanno tutto. E' l'autorevolezza della fonte, loro sono autorevoli, tu non sei autorevole, giornumini neanche io. E appunto... Siccome la comunicazione è uno dei carri fondamentali, è l'autorevolezza della fonte. Questa è la ragione per cui hanno ucciso Bernard Marie, perché ha fatto vedere con i suoi libri che queste persone non sono autorevolezza, sono i centroni. Oltretutto colpo l'occasione per farmi sapere che il premio Nobel in economia non esiste, perché il premio Nobel ha riguardato altre discipline, non l'economia. Quando c'è stato questo successo universale dei premi Nobel, il sistema bancario ha inventato il premio Nobel in economia, che non è conferito dalla giuria dei premi Nobel, è conferito da un gruppo di banche. E oggi l'umanità crede ancora che quelli che hanno avuto il premio Nobel in economia siano stati nominati dalla giuria dei premi Nobel e che il premio Nobel è stato conferito dal re di Svezia. Non è vero, è completamente falso. Sono tutte persone, o quasi tutte, a loro disposizione, a loro disposizione delle banche. Per far vedere come è possibile uscirne fuori, vi faccio vedere un libro che è questo, che riguarda un convegno molto importante che si è tenuto nel 1942 e che parte da presupposti da noi perfettamente condivisi. E adesso ve lo faccio vedere. Questo convegno si è tenuto all'Università di Pisa, è stato coordinato dal Ministro Pigini, che era all'epoca anche preside della facoltà di Pisa. Della normale? No, non era della normale, è dell'Università. Il convegno, si chiama così, il convegno di Pisa e le premesse per un ordine economico nuovo. La moneta lavoro sostituirà il giallo metallo. Qui si parlava di moneta lavoro. Esattamente. Qui siamo nel 1942. In questo convegno sono convenuti i maggiori pensatori italiani dell'epoca, i maggiori economisti, i quali hanno proposto delle cose che poi con la sconfitta militare non sono andati in porto perché la sconfitta militare è stata la vittoria degli usurai contro quelli che proponevano ovviamente la moneta lavoro. Però alcuni punti ve li voglio dire perché sono molto importanti. No, va detto che il periodo delle sanzioni economiche non è stato casuale. Non è stato un problema di assalto alle colonie quando tutti avevano già decretato tutto quello che c'era da decretare. Quelli che poi fanno sempre i censori in casa d'altri. Sempre in casa d'altri. Anche adesso, come si chiama il presidente Milosevic, è stato dichiarato innocente. Dopo che l'anno ammazzato, c'è un attere di 10 anni di processo, 15 anni di processo è risultato innocente. Anche perché non poteva essere altrimenti. Perché è stato attaccato. Perché è stato attaccato. Lo dichiareranno innocente fra qualche anno. Fino a che gli fai comodo sei alleato e persona per bene. Nel momento gli fai più comodo sei delinquente e vai ammazzato. Allora, vediamo queste conclusioni se sono non solo condivisibili oggi, ma se sono auspicabili oggi. Questo è il punto carcere del discorso. Perché giustamente si è parlato del lavoro che sta riducendosi sempre di più grazie all'utilizzazione della macchina. Ora, diciamo anche dei dati. In media oggi il progresso dell'automazione della macchina nell'ambito produttivo delle fabbriche e delle imprese ha ridotto del 25% la spesa per il lavoro. Gli ultimi dati importantissimi di questi giorni ci dicono che la questione andrà oltre, andrà molto oltre e ci saranno ulteriori dismissioni di lavoratori, soprattutto lavoratori di bassa categoria. Quelli muniti di un titolo di studio, soprattutto della capacità intellettiva di gestire la macchina avranno ulteriormente la possibilità di lavorare. E questo non è un caso che è stata programmata la crisi della scuola italiana da una trentina d'anni proprio per poter permettere di avere una massa di individui non diversificati e sostituibili con l'immigrato, perché è la stessa roba, quello che si vuole è la stessa cosa. Spesso gli immigrati sono molto più occulturati degli italiani, bisogna che lo diciamo. L'altro aspetto importante che vi ho sempre detto della realtà di oggi è il fatto che il progresso ha riguardato anche la tecnologia per l'ammodernamento delle macchine. Questa è la cosa più importante. E' il leader del settore mondiale, che potrebbe essere anche un autogono. In ogni caso, il fatto che una macchina, fino a poco tempo fa, doveva essere rimessa in moto dopo circa un anno, adesso ovviamente la stessa macchina continuerà a funzionare grazie a questi sistemi di miglioramento, per cui la massa di individui messi sulla strada e qui è il punto, sarà enorme. Se la società non riuscirà a creare dei sistemi di riequilibrio, perché se il valore fondamentale è il lavoro, noi dobbiamo riprendere quello che è stato studiato e presentato circa un secolo fa, 1942, fra poco ci siamo, perché è indicativo della capacità predittiva che c'è nella cultura italiana. Leggiamo i punti cardine della conclusione di questo convegno, che ripeto è del 1942. A complemento delle relazioni scritte, il gruppo Giacoma, era praticamente un gruppo coordinato da questo Giacoma, presentò alla presidenza del convegno la seguente mozione. Il convegno di Pisa per lo studio dei problemi economici dell'Ordine Nuovo ricorda che il lavoro rappresenta un dovere e costituisce con la vita dei cittadini la sola vera fonte di ricchezza della nazione. Questo è un principio assoluto che vale i valori come vale oggi, anche in presenza della macchina che sostituisce il lavoro. Poi il concetto è mazziniano, il lavoro è un dovere, non è un diritto. Allora, la concezione che il lavoro è un dovere ci deve dire che chi gestisce il potere nelle nazioni, e ci sono altre in Italia, non deve fare l'interesse degli usurari, ma deve fare l'interesse della nazione attraverso l'obbligatorietà del lavoro, che non è l'obbligatorietà del lavoratore sfiduciato, stanco e fancazzista che noi conosciamo, è nascosto negli affratti degli enti pubblici, ma è il lavoro creativo che l'italiano può fare, quindi questo per noi deve essere il principio fondamentale di tutto, tutto e il resto. Perfetto. Dove è il lavoro? Perfetto. Poi, due, lo Stato deve eliminare da sé la funzione fiscale per dedicarsi solo ed esclusivamente ad assicurare ai suoi cittadini tutte le forme di assistenza sociale, di cultura, di sviluppo e di coordinamento. Lo Stato deve eliminare la funzione fiscale. Invece oggi ci viene detto che la funzione fiscale serve proprio per dare il servizio. Esattamente, la funzione fiscale fino a se stessa, tant'è vero che l'hanno delegata ai privati che sono soci in affari con loro. Va detto che delle entrate fiscali che una volta venivano indirizzate nelle varie rivoli di capitoli di spesa in giro per l'Italia. Oggi praticamente non c'è più nessun investimento veramente produttivo, nessuno di nessun genere esatto inseguire le emergenze, le catastrofi, le problemi. Non c'è un piano inquiettuale, non c'è un piano progettuale nel senso di voler mettere in modo una macchina costruttiva e propositiva. Quando si parlava ad esempio di pianificazione, mi ricordo che la pianificazione è stata data come ministero a un intellettuale più che economista, intelligente, Giorgio Ruffolo, e lui si lamentava che non lo mettevano in condizione di creare un piano perché non l'hanno mai fatto. Questo per dire che in che situazione ci troviamo e quali erano le forze oscure che operavano anche all'epoca dei governi cracci. 3. Il raggiungimento di una vera giustizia sociale non può essere realizzato se non si dà al lavoro inteso come fattore principale produttivo la possibilità di concorrere alla ripartizione della produzione in rapporto alla sua partecipazione produttiva e dalle sue necessità. Perfetto, la partecipazione del lavoratore agli profitti dell'azienda. è stato scritto nel 1942 di un importantissimo convegno che si è svolto in Italia, segnala ai poteri responsabili la necessità che venga definitivamente abbandonato la base aurea per la nuova moneta da emettere, moneta lavoro. Quindi qui si... è quello che ha realizzato Olivetti, Olivetti. Esattamente. Ha realizzato questo... Esattamente, bravissimo. Ha realizzato non soltanto... Ma infatti l'hanno fatto fallire... Ma infatti l'hanno fatto fallire... No, l'hanno fatto fallire in una città, perché è il re, gestita così. Esattamente. Allora, cosa, quell'attore... No, io voglio dire l'ultima cosa. Zingaretti, va per finire. Quell'attore Zingaretti che ha fatto la parte di Olivetti, in un'intervista che gli hanno fatto alla televisione, ha detto che se Olivetti l'hanno ammazzato. O per dirlo lui, che ha fatto la parte dell'attore in quella televisione televisiva con la fiction, mi pare che non ci sia... nessun altro lo possa dire. Ma hanno ammazzato anche l'ingegnere suo collaboratore, quello giapponese. Esattamente. Eh, come si chiamava? Pure quello l'hanno fatto fuori. Tu pensa... è stato... la Olivetti, questa è una cosa poco nota, aveva messo in piedi una PC prima del... Esattamente. Prima dell'IBM. Dava fastidio all'IBM. E' un portatile che faceva la concorrenza all'Apple, prima dell'Apple II. Prima. E' certo. Capito? E questa è la realtà... Quello davavano fastidio, non si dovevano costruire in Italia... Gli elaborati... Tant'è vero che Olivetti è stata affidata a De Benedetti, il quale De Benedetti, di cui sappiamo perfettamente da dove veniva e qual era il suo incarico, ha portato al fallimento la Olivetti stesso, non solo, ma per poter portare al fallimento ha torturato centinaia di ingegneri che io ricordo alcuni servizi televisivi di circa una decina di anni fa, dove si vedevano tutti questi poveracci trattati col mobbing che stavano lì e non facevano niente, li tenevano lì, fermi pur di non farli operare, più o meno l'intestino che hanno avuto anche gli ingegneri creati dalla lungimiranza di Mattei, perché Mattei è stato assassinato non perché faceva concorrenza sul petrolio, ma perché nel giro di due anni aveva creato 400 ingegneri italiani, ingegneri atomici italiani, perché era quello che dava prestigio, è chiaro? Andiamo avanti. Ad eliminazione della opprimente macchina fiscale, la nuova moneta sia automaticamente svalutabile anno per anno nella percentuale alta ad esicurare allo Stato i mezzi per assorbere a tutti i suoi impegni. Sono arrivati al demorraggio e pesazione all'emissione. Esattamente, esattamente, era anche il pensiero di Ezra Pound. All'ultimo, l'equilibrio tra importazione ed esportazione possa essere raggiunto nell'emissione di una apposita moneta moneta, manovrata esclusivamente alla Banca di Stato o con l'invio di apposite squadre di ingegneri presso gli stati creditori per scambiare col lavoro quanto si è avuto in merce e viceversa. Guardate, questo è una cosa importante. Non possono risolvere la Grecia? L'opposto di quello che hanno fatto! Esattamente! Esattamente! Perché li afforzano come ulteriore! Tu mi presti dei soldi, io ti mando i miei corsi, ma calcolo da te, vengo da te, calcolo, no? Quanto in realtà mi vale e ti mando l'equivalente, infatti, il lavoro! Al limite ti mando anche i miei corsi! Quello che confieva Hitler! Esattamente! Tu, nel 1933, 1934, 1935 fino al 1940, Hitler era sotto la spalla di Damocle di 100 milioni di marchi che non poteva utilizzare più di quello di emissione annuale. che cosa faceva? Vuoi, che ne so, mi vuoi vendere il petrolio? Io lo compro del petrolio, però domani tu mi compri le Mercedes in cambio. Esattamente! Capito? Esattamente! E' una permuta costamente fatturata, in base a scambio di fatturazione, però non tenevo da in valuta pregiata. Allora, a questo punto concludiamo con un altro libro piuttosto importante, che si riferisce proprio al diritto romano. Il libro è del noto scrittore di cose romane Gerdomenico Casalino, res publica, res populi. Anche se abbiamo accelerato i tempi dei passaggi ideali, il senso resta però non è il medesimo. Quando contro la tradizione giuridico-religiosa romana del populus, come comunità di uomini vivi e concreti, che è la res publica, quindi la res publica non è questa repubblica qui gestita dagli usurai e dai servi degli usurai, ma la res publica vera è la realtà di un popolo composto da uomini vivi e veri. Il concetto è ben diverso. Un popolus come comunità di uomini vivi e concreti, che è la res publica e che esercita la sovranità primaria attraverso gli esecutori della sua volontà, cioè i magistrati. Si creano ex nihilo gli enti astratti, popolo, società, stato e li si distacca dalla comunità storica attribuendo agli stessi inizialmente diritti, volontà, capacità giuridiche che possono essere solo dell'uomo singolo e concreto inizialmente o con più se stessi. Via l'SPA, l'SR, l'SMG, esatto, e quello che vogliono fare la Stazione della Justiazione, ma ha tre corse, la nascita di questa strana Unione Europea affidata al potere delle banche della Banca Centrale Italiana, e questo è il punto, ecco che dobbiamo ritornare, al vero umanismo. Nel saluto. Esattamente, per poi attribuirgli anche il diritto di proprietà, trasferendolo dagli uomini all'ente, società di capitali, Stato, socialista e quattro. Eccolo qui, la semilitudine tra il polsevismo e le società di capitali, perché sono quelli che hanno inventato la società di capitali che hanno inventato il polsevismo, con noi andiamo dicendo da sbagliato tempo. Allora, sul piano di questa logica razionalista e quindi irreale, è facile e inevitabile che la persona viva, che non è ancora nata, sia mostruosamente definita feto. Ecco dove è la negazione dell'uomo, laddove invece il diritto latino diceva un'altra cosa, mentre nel primo libro di Gesta, di Giustiniano, cioè nel titolo De Statu Ominis, Ominum, scusate, e nel titolo De Verborum significazione, è definita qui in utero est, ed invece chi persona non è, sia dichiarata tale. Quindi la differenza fondamentale, lo vediamo anche nei punti essenziali di questa cosa, perché oggi voglio nominare la natura del cuoco. Il reale è positivo, è creativo, è insiduto, è reale. Invece l'irreale, il soggetto giuridico non ha fondamentale. Allora, il soggetto giuridico intanto può essere utilizzato per le attività commerciali, ma deve essere utilizzato per soffocare l'uomo. D'altro nel capo Grassi lo aveva scritto, lui è quello che ha fatto l'opera maggiore. di queste cose. Oh, e poi, scusate, poi chiudo, mi lascio la parola. Lo Steiner ha l'individuato, perché Steiner ha seguito le indicazioni di Brown, che conosce l'opera dello Steiner, e la conosceva molto bene Olivetti, è riuscita la applicata, e tra l'altro bisogna anche dire un'ultima cosa, prima che chiudo, che lo Steiner è per la moneta complementare. Certo. No, Steiner era una sequace di Jules, di Gessel, di Julius Gessel, non può essere sequace di Gessel, perché Gessel è operato in quell'ambito, era un economista appena poco predecessore nel tempo, diciamo, nel periodo epocale, e a cui ha influenzato Steiner, e Steiner ha influenzato Brown, capito? Steiner ha creato una scienza che prescinde di Gessel. Esattamente, esiste una contemporaneità di questi personaggi, e queste idee, si capisce che sono idee che sono contemporanee. Ma queste sono tutte smarrite. Certo. Ma quella conclusione non è un caso, perché io ho voluto concludere in questo, una visione dell'uomo concreta, reale, ce l'hai qui. Quando cominciano a dire, l'uomo è un feto, vuol dire che tu sei utilizzabile, infatti vogliono utilizzare pezzi umani per farci quello che vogliono, ma per poter fare questo devi sfilire, sfilire anche nominativamente, anche nella parola, il significato, da dove il diritto giustinianeo diceva chi è quello, chi è quell'uomo lì, è quello che sta nell'utero, non dice che è un feto o qualcos'altro, chi è quello lì, è quello che è stato in quel momento, però è un uomo fatto, nella sua pienezza di diritto fondamentale ad esistere, quello è il punto essenziale. Oggi partiamo, ci sono inventati anche la morte cerebrale, per poter giustificare gli spianti degli ordini, ti immagini a che livello siamo arrivati. E con questo io ritengo di aver chiuso i miei interventi. Allora ringrazio tutti voi che siete venuti ad ascoltare Giorgio Vitardi, Orazio Regnani e Maurizio Cerchiara. Grazie a voi tutti. La discussione è stata anche abbastanza lunga la relazione di Orazio, però ci ha detto tante cose, però ha detto che ha dovuto anche un po' tagliare, per cui bisognerebbe fare invece magari più puntate, magari ogni volta risfabiliamo, che ne so, un argomento in modo che tu c'hai un'ora e tu puoi... Sì, sì, perché se tu fai un argomento per volta riesci meglio a farlo. Perché se noi in un convegno è troppo tenso e per cui magari facciamo anche fatica a seguirti, ecco. In ogni caso, grazie a tutti. Grazie a tutti e arrivederci al prossimo convegno.